L'amministrazione comunale di Borgotaro spiega in una nota al primo cittadino Diego Rossi anche quest'anno parteciperà all'iniziativa nazionale Puliamo il mondo in quanto si ritiene importante per il capoluogo della Valtaro aderire a queste giornate di sensibilizzazione ambientale. Sono pertanto a richiedere, dice Rossi, la partecipazione di tutti per la buona riuscita dell'iniziativa che si terrà nella giornata di sabato 24 settembre con ritrovo alle ore 8.30 nel piazzale Don Beccarelli-Pedrini antistante le scuole medie nel quartiere di San Rocco. Il 19 di questo mese, sempre presso la sala consigliare, si terrà un'apposita conferenza stampa di presentazione per illustrare la manifestazione a tutta la popolazione. Infatti scenderanno in campo per questo importante appuntamento tutte le scuole, ma ovviamente l'auspicio è che anche i semplici cittadini vi prendano parte numerosi. Si chiamava Tutti in campo con Claudio, la maratona non stop, 10 ore di basket, 10 ore di sport, giocato all'aperto con la formula della partecipazione davvero aperta a tutti. Hanno giocato ragazzi, ragazze, bambini, giovani, meno giovani. Lo scopo primario era solo uno, ricordare uno sportivo genuino, molto amato Claudio Dallara a quattro mesi dalla sua scomparsa. Una maratona sportiva per ricordare. 10 ore ininterrotte di basket, 10 ore per riabbracciare idealmente, tutti insieme, Claudio Dallara, recentemente scomparso. 400 magliette distribuite bianche e rosse, 400 o forse più le persone in campo, bianchi contro rossi. I primi, alla fine, hanno battuto ai secondi con un punteggio a tre cifre. Si è vista in campo una bella pallacanestro, senza allenatori, senza arbitri, con gli stessi giocatori che decidevano i cambi. Lo spirito era quello voluto dagli organizzatori, stare insieme, giocare, correndo in quel campetto di casa Molinari, che tanti ricordi ha evocato, centrando un canestro. Con solo un desiderio, ricordare Claudio, un grande sportivo, che ha reso ancora più bello il basket, che ha trasmesso la sua passione, la sua voglia di esserci sempre. E i tanti, giunti a Borgotaro solo per ricordarlo, solo per scendere in campo con lui, sono stati la miglior risposta possibile. Secondo me è una bella manifestazione di sport, come l'amico Claudio avrebbe voluto. È il modo, secondo me, migliore per ricordarlo. Ed è una cosa che è partita dal cuore di tutti. Secondo me è la risposta di tutto un paese verso un ragazzo che ha dato molto al basket valterese. Ci sono ragazzi da Fidenza, ragazzi da Parma, sono venuti un po' da tutta la provincia per ricordarlo. E inoltre noi, comunque gente che ha sempre giocato a basket, noi abbiamo voluto dare uno spazio anche agli amici di Claudio, che magari l'hanno sempre sostenuto e tifato quando giocava, però non hanno mai giocato in modo agonistico. E adesso, proprio adesso, per esempio, si sfideranno gli amatori, e quindi ne vedremo delle belle, via. Anche loro in campo ci sono voluti essere per dare il loro saluto a Claudio. Al termine della maratona cestistica, tutti a tavola, sempre al campetto, per gustare buoni piatti ed aiutare con una piccola offerta la Valtarese Basket, che tra poco rincomincerà il suo campionato. Era la squadra di Claudio, la prima, quella che si porta nel cuore, e che ha voluto ricordare un compagno tanto amato, che troppo presto ha dovuto abbandonare il parquet. E ora siamo alla pagina sportiva, ci occupiamo ancora di calcio, ma questa volta del campionato Ligure di promozione, dove, sapete, milita il Santa Maria San Salvatore. Un avvio di campionato senza gioie né dolori, infatti, la prima partita è finita e terminata in parità, 0-0. La squadra del Santa Maria San Salvatore ha giocato domenica scorsa la prima giornata del campionato di promozione Ligure, con il Real Valdivara. La partita si è conclusa con il risultato di 0-0. La squadra Tornolo-Cogornina inizia quindi questa nuova avventura con un pareggio a reti inviolate. È stata una gara povera di emozioni, dove le due squadre sono state molto attenti a non scoprirsi e si sono registrate pochissime occasioni per segnare da entrambe le parti. Il Santa Maria San Salvatore non è riuscito ad attuare il gioco offensivo, che è invece riuscito ad esprimere nella scorsa stagione. Le indicazioni emerse dalla gara sono però positive, poiché la squadra bianco-azzurra ha dato dimostrazione di forza e compattezza. L'incontro è stato giocato in un clima quasi tropicale e questo ha sicuramente influito sull'andamento della gara. Dopo l'avvio dell'altro ieri, ora il Santa Maria San Salvatore sarà impegnato domenica prossima nella prima gara fuori casa nel campionato a Castelnuovo Magra, dove affronterà il Colli di Luni. La squadra dello Spezzino ha affrontato nella prima giornata l'Atleti Club Genova e anche in questo caso la partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Il centro mini-basket valtaresa, in collaborazione con l'assessorata allo sport del comune di Bedogna, vuole proporre per la prossima annata dei corsi di mini-basket e basket che si terranno presso la palestra comunale di Bedogna durante l'annata scolastica. a partire dal prossimo autunno i corsi saranno rivolti ai ragazzi residenti nei comuni di Bedogna, a Compiano e Tornulo, frequentanti la prima elementare fino alla seconda media. Chi fosse interessato può rivolgersi ad Andrea Ghiorzo 334-6891-040 oppure a Marco Bertani 328-0320-301. Il meteo. Domani è mercoledì 14 settembre, il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, le temperature minime e stazionarie, valori tra 20 e 22 gradi, le massime senza variazioni di rilievo, valori tra 30 e 32 gradi, ancora superiori alla media del periodo, mentre i venti saranno deboli a prevalente regime di brezza. Vi lascio ringraziandovi ovviamente e segnalandovi gli appuntamenti di questa sera della nostra emittente. Si comincia alle 20.45 con una nuova puntata del campionato italiano di Tractor Pulling, poi alle ore 21 il telefilm Diamonds, segue alle 21.45 lo sceneggiato L'Enigma e al termine la replica del nostro telegiornale. Con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, torniamo domani sera a 19.35, arrivederci. Grazie a tutti.